ho sbagliato l'ero fatta di terza sono arrivato corto qua ecco cazzo ma vai su di qua fai il sassetto fai tutta la stradetta quando arrivi qua basta che apri cazzo va via da sola prova non andare su di qua ti infogni dentro di lì è tutta di rinforzata stai venendo fuori il sasso non vai su per quello va va poi adesso che ho detto qualsiasetto lì ti fa saltar su non la vedi neanche giusto no va su fino in cima va quale va 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 è va 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.